No! Non sono voluta! Quella tra Juventus e Milan è stata una partita due volte. Nel primo tempo l'ha da padrona la Juventus, il Milan in gabbia e la Juve in ripartenza con Morata gol al quarto minuto del primo tempo nella ripresa calo fisico e mentale della Juve e il Milan esce dal guscio fino a raggiungere il gol di Rebic e portare a casa un punto prezioso e oggi noi siamo qui su FIFA Volta Football con la sfida Juventus-Milan iniziamo subito con le tre barzellette la prima quando avevi detto i due volti io ho subito pensato che c'era un volto qui e un volto qua quindi due facce la seconda era quella con l'antenna! la super antenna, lo youtuber antenna no non è vero poi la seconda youtuber wifi era quella del guscio che esce dal guscio e io ho pensato che è una tartaruga che lascia il guscio oppure una lumacca che lascia il guscio e la terza era che il Milan si porta a casa un punto super prezioso benissimo! in questa sfida di Volta Football valgono solo ovviamente i gol di Morata per la Juve che è Cristian e di Rebic che sono io andiamo a giocare! però prima vi voglio far vedere le mie nuove scarpe ta-da! è una scarpa scarposa super scarpa oddio oddio! lo sto iniziando ve la mostro faccio vedere dopo prendi questa prendi questa metti questa ok troppo larga allora centrocampo la Juve 3 contro 3 senza portiere senza regole si inizia ok non ci vedo bene con questi occhiali sono troppo scuri sono svantaggiato ok aspetta è meglio così ma che cazzo perché non vedo non vedo stai conquistando una ragazza ma come? è con quegli occhiali che avversi gli occhiali fanno gli occhiolino non penso che una ragazza con questi occhiali che ho mi guardi molto ok gol no ah vale solo aspetta aspetta non vedo parato mister gol mister gol no Chiellini se fa gol non vale ah no è vero eh mister gol mister gol comunque stavo dicendo questa scarpa è una scarpa speciale perché ha la suola coloratissima la suola più colorata del mondo oh yeah è quello lì Rebic solo Rebic può fare gol e vai gol no vai Rebic vai vai di testa non può fare di testa perché la porta è talmente piccola lì ok vai Rebic sì gol di Rebic 1-1 per un attimo il mio Nesquik ha preso tutta l'energia mi metto l'antenna wifi per fare gol non mi entra è mio vai 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 eh più o meno ci siamo mi sto anche dimenticando che posso fare ecco Rebic ci sono ci sono anche io ci sono ci sono bene mister gol devi fare un altro gol perché ti chiami mister gol dai mister gol mister gol mister gol ma non è morata sì è morata è morata sì è 9 il numero 9 ho fatto il click ed è morata comunque sto dicendo è una scarpa bellissima è una scarpa con la sua bellissima e porti il numero 35 forse sì è la scarpa è una 35 ecco Rebic vai Rebic vai Rebic ma appoggiala qui vai Rebic oh questo è fallo no non è fallo non ci sono regole si possono fare i falli sai no non vale sì 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 e non vale e io ti tolgo un punto posso andare in porta cambia tutto questo è Rebic no è Romagnoli Romagnoli passa Rebic vai Rebic gol di Rebic non è Rebic no sì è lui no ragazzi è lui o non è lui no questo era un altro giocatore un difensore no è Rebic è Rebic no Rebic guarda anche ah cacchio ecco di nuovo Rebic si vabbè mi fai pressing mi pressi troppo ma cosa fa Romagnoli passa Rebic no no non voglio è Borrucci non poteva tanto fare gol Borrucci ok vai Rebic si Rebic toccere è lui è lui ragazzi credo che ho capito che l'antenna porta sfortuna eh cosa hai detto non ho sentito niente eh tieni è l'antenna porta fortuna ti porterà super fortuna ok ma forse questa antenna mi disturba no no come hai fatto a capirlo mica ti disturba ti ok Calabria per Rebic no Chiellini Bonucci perché Morata ce l'ha giù in difesa non lo so ok ok questo è Rebic Rebic tira oh ma dove tiri Rebic Calabria dai Calabria Romagnoli per Calabria Calabria Romagnoli Calabria no Romagnoli Rebic no lo sbaglia ce l'ha Rebic tira Rebic no ti prego no 5 4 3 2 wow dai perché non riesco a mai far gol finisce qui il primo tempo ma cosa mi hai messo l'antenna si dai Rebic Rebic vai Rebic vai Rebic avvicinati alla porta Rebic Calabria e il gol 4-2 per il Milan Rebic numero uno papà guarda là c'è un piccione dove di là di là mi è partita l'antenna ma non è che mi vuole di fregare no c'è un piccione volante no ho funzionato cosa Alvaro Morata comunque sono sempre in vantaggio vabbè tira adesso arriva l'area montata Bonucci Chiellini eccolo qua Morata andate in porta no traversa Rebic tira no sbaglia Guado Chiellini perché Morata vai in mezzo Chiellini non vale Chiellini no 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 si 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 dove è l'antenna è partita l'antenna è saltata ah allora c'è un altro piccolo volante di là no quanto manca 4-4 sono qui due due minuti passala Vai vai vai, eccolo Rebic, eccolo Dai Rebic, Rebic passa a Calabria Calabria allunga per Rebic Rebic, Rebic tira Ancora Rebic Tira Rebic, sbaglia Romagnoli Per Calabria, per Romagnoli Calabria, Rebic, no È inutile che tiri Romagnoli No, no No, no, no Ok ragazzi Adesso già giochiamo nel possesso bolla Possesso bolla Possesso bolla Come si fa? Difensiva Romagnoli, Rebic Tira, no la para Giochiamo nel defensivo Difensivo Vai, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Morata Morata No Ok, no È Romagnoli Non vale Romagnoli Questo è Rebic No, non è Rebic Rebic, cosa fai in difesa? Vai No, no Morucci non può fare gol Non può fare gol No, che tunnel Che tunnel mi hai fatto Booooom Io come me Non varo morata Quanti minuti mi restano? Pochissimi 57 secondi Rebic Vai Rebic Manca un minuto Posso ancora Oh no No Devo fare un gol Della distanza Ma dov'è? Ma Rebic Vieni qua Eccolo qua Rebic Era lì che faceva il picnic Rebic Bene Ma no Dai Vai Marabba Pera Marabba Oh Oh Rebic Vai Rebic Sì No Mamma mia Ok L'ho presa Rebic Secondo me No Vai Lo levi Eccolo lì Rebic Ma Vai No Ultimo gol Ultimo gol No No Almeno il gol Della bandierina Suprema Sì Ancora? Sì ma mancano pochi secondi No Sì Allora Vatti cinque Eh Non posso battere i perdenti Vatti soldati e vincitori La Juve Sconfitta Il No Come vedi sconfitta? Ah no è vero Il Milan sconfitto La Juve Trionfa Per setta quattro I milanesi Escono dai gusci E portano i punti a casa Ciao